Ogni mattina alle 7 partivano con un pullman da qui dalla casa circondriale di Pesor per andare a lavorare in un'azienda agricola poco distante insieme ad altri tre detenuti e fare poi il ritorno nel primo pomeriggio. Sempre la stessa routine tranne martedì quando Emilian Bici ed Ermelinda Spaiu, coppia albanese, non si sono presentati all'appuntamento col pullman e sono tuttora in fuga. Erano detenuti per un tentato omicidio a Ravenna nel 2018, un'aggressione a coltellate. Emilian, l'uomo doveva scontare ancora più di tre anni, Ermelinda invece sarebbe dovuta uscire tra due giorni. Proprio questo rende inspiegabile per certi versi la fuga favorita dal fatto che l'azienda agricola nella quale lavoravano è parecchio vasta. La procura ipotizza che l'uomo avrebbe convinto la donna a scappare con lui. Sono ricercati da quasi due giorni su tutto il territorio nazionale, proprio per coordinare le indagini stamattina si è tenuto in prefettura un tavolo tecnico. Sentiamo allora le interviste al prefetto di Pesaro e alla direttrice del carcere. Quella linea può tornare allo studio. Lavoravano in un'azienda agricola del territorio già da ottobre e ieri si sono allontanati, ovviamente senza lasciare al momento traccia della loro direzione. Erano entrambi in carcere per tentato omicidio, vero? Sì, erano per tentato omicidio nell'ambito di una consorteria mafiosa albanese. Già all'interno del carcere lavoravano per la serra che abbiamo dentro per tenere pulite le aree verdi, quindi godevano di estrema fiducia. Particolare fiducia, godeva questa signora Spaiu, sua più grande preoccupazione era quella di poter rimanere in Italia, non andare in Albania. Io so che stava cercando casa, insomma mi dispiace, può essere stato un colpo di testa, non lo so. Quando vanno fuori non hanno un braccialetto elettronico, un dispositivo che li possa tracciare in qualche modo? No, no, il braccialetto elettronico si applica ai detenuti imputati che quindi devono avere ancora una condanna. Non ce l'aspettavamo proprio perché tutti i presupposti erano positivi per loro due.